in giornata eh atteso nel Piceno il eh generale eh Pellegrini uno eh degli uomini di fiducia del giudice Giovanni Falcone lo vado subito eh a salutare buongiorno buongiorno generale mi sente? Allora guardiamo prima insieme questa scheda e poi ci colleghiamo. Buongiorno al generale Angelo Pellegrini buongiorno buongiorno a lei grazie intanto per aver accettato il nostro invito per noi è un piacere e un onore. Lei neanche eh quarantenne assunse il comando della sezione anticrimine di Palermo dall'ottantuno all'ottantacinque. Che cosa ricorda di quella stagione? Eh è una stagione unica, una stagione irriperibile per tanti motivi. Intanto una stagione unica perché proprio allora si verificò la seconda guerra di mafia. Quindi le immagini che ogni giorno si verificavano e si riproponevano omicidi eh soprattutto nella città di Palermo. Eh questa è la cosa gravissima. E poi una stagione irripetibile perché ovviamente ovviamente con un esiguo gruppo di magistrati e di uomini delle forze di polizia si riuscì a in poco tempo eh limitatamente voglio dire poco tempo perché eh erano anni che la mafia esisteva eh in Sicilia e noi in poco tempo riuscivano a dimostrare che non era formata da uomini da singole famiglie eh sparse sul territorio dell'isola dell'isola ma era addirittura un'organizzazione unica un'organizzazione che aveva un vertice un vertice che che comandava in tutta la Sicilia e dava direttiva in tutta la Sicilia. Un vertice che disponeva quei tanti omicidi di mafia che si erano verificati negli anni precedenti. Qualcosa di eccezionale una che trovò insieme un piccolo numero di magistrati e uno sparuto come disse Falcone numero di uomini delle forze di polizia. È un ricordo unico, indarebile perché tra l'altro io ho persi molte persone a cui facevo riferimento. In quel periodo fu ucciso il giudice Chinnici, in quel periodo fu ucciso altri miei colleghi come Nini Cassarà, il commissario della Polizia di Stato, il capitano D'Aleo, altri sottoufficiali, gente con cui lavoravo a stretto contatto, che ci vedevamo tutti i giorni per redigere quelle informative e quei rapporti sui vari omicidi che succedevano, ma soprattutto quelle informative che volevano dimostrare che la mafia era una cosa unica, che aveva un capo, che aveva il suo gregari, che aveva la sua classe dirigente, quella che decideva quello che doveva succedere in Sicilia. Lei da uomo servitore dello Stato, che tipo di rapporto aveva con l'idea della morte, quindi il rischio che poteva correre? Guardi, dovrebbe alzare un po' il volume perché non riesco più a sentire la sua voce. Mi sente adesso? Mi sente un po' meglio? Un po' meglio, sì, in effetti la sento meglio. Dicevo, erano anni difficilissimi, no? Dove ciascuno di voi correva rischi altissimi. Lei che rapporto aveva con questa idea appunto del rischio che poteva correre? Beh, guardi, come disse giustamente Falcone, in alcune situazioni si provava anche un senso di paura, però reagivamo a questa paura, non potevamo tirarci indietro. Eravamo coinvolti in quest'opera di veramente, quest'opera che cercava veramente a evidenziare all'opinione pubblica, a chi non ci credeva, alle classi dirigenti, cosa significava veramente la mafia. E quindi pur non essendo degli incoscienti che affrontavamo i rischi senza preoccuparci, avevamo il coraggio di poter andare avanti. E questo coraggio lo avevano sia i magistrati, soprattutto quelli del polo antimafia, sia quegli investigatori che erano più direttamente interessati nelle indagini sulla mafia. Generale, lei si è guadagnato la fiducia del giudice Falcone, anche proponendo un metodo investigativo nuovo, no? Che guardava agli spostamenti delle grandi somme di denaro in mano alla mafia, che poi probabilmente ritroveremo anche nella stagione di Tangentopoli, sebbene è stata un'altra epoca. Però ecco, è stato un metodo vincente, nuovo? Diciamo che è stato come l'uovo di Colombo. A un certo punto Colombo riuscì a capire come si riusciva a tenere un uomo in modo verticale. Dice, ma ha fatto una scoperta, potevamo farla tutti, ma nessuno ci aveva mai pensato. E allora ci fu un duplice atteggiamento, cioè non scoprimmo niente di nuovo, però mettemmo in opera quello a cui nessuno aveva mai pensato. Da una parte Falcone dimostrò, dopo tanti anni, che non era vero quel detto, quel brocardo latino che recitava, che pecuniano Nolet. Falcone incominciò a seguire quello che significava il denaro, le tracce che lasciavano il denaro. Il denaro lascia sempre delle tracce e questo fu un metodo vincente. Da parte nostra incominciavano a svolgere un altro tipo di accertamento, cioè non corriamo più appresso ai singoli delitti e, come ho detto prima, a Palermo si verifichavano omicidi tutti i giorni. non corriamo più appresso ai presunti killer, cerchiamo di scoprire ben altro, cerchiamo di scoprire per quale motivo si è consumato quel delitto, cerchiamo di capire come la vittima era coinvolta nella struttura mafiosa e per quale motivo è stata uccisa. Cerchiamo di fare i vari collegamenti e mettere i collegamenti insieme, cioè vediamo la struttura mafiosa da un altro punto di vista. Non vediamo più dei singoli episodi e dei singoli delitti che la mafia commette, ma cerchiamo di capire come la mafia agisce come mafia, come struttura criminale. Chi potrebbe dare gli ordini se questi omicidi sono strettamente collegati, se le persone vengono uccise sono collegate e per quale motivo vengono uccise. E allora si creò un duplice mosaico. A me piace raccontare, specialmente ai ragazzi, che la mafia incominciò ad essere un mosaico che noi ponevamo sulle pareti, le singole tessere, quelle piccole tessere e pian pian cominciamo a vedere come era la struttura, in effetti, la struttura della mafia. Questa fu la carta vincente, fu la carta vincente che consentì, io dico, solo nel breve periodo di dieci anni, dalla negazione dell'esistenza di una mafia come struttura unica, con un capo, i suoi gregari, lo suo Stato Maggiore, consentì in soli dieci anni di avere una sentenza definitiva, la sentenza della Corte di Cassazione del Maxi Processo, che ci disse che la mafia esiste, anzi ci disse ancora di più, che la mafia esiste e che la mafia ha un vertice, che la mafia esiste e addirittura non si chiama mafia, cosa che non sapevamo, che nessuno sapeva, pur se la mafia esisteva da 150 anni sul territorio siciliano, si chiama cosa nostra, una cosa diversa e consentì di sapere com'era strutturata. Io ricordo che il giornale, quando venne messa la sentenza di Cassazione, dissero la mafia esiste, sì esiste in Sicilia e questo fu fatto in soli dieci anni a scapito dei sacrifici personali e con purtroppo per aver contato tante vittime lungo il nostro cammino e poi successivamente la conseguenza l'omicidio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Noi gli uomini di Falcone è intitolato il libro che ha scritto nel quale immagino abbia diciamo no convogliato tutti i suoi tutti i suoi ricordi. Qual è quello più forte che ha di Giovanni Falcone? me ne dica uno magari anche al di fuori delle sedi istituzionali. Guardi io soprattutto ho voluto mettere in luce Falcone come uomo e allora io le do un ricordo per dire come eravamo, come vivevamo a Palermo e in qualche modo come eravamo uomini, uomini che eravamo costretti a vivere in una certa maniera. Durante gli interrogatori di Tommaso Buscetta noi alcune volte restavamo a Roma dove venivano interrogatori per due giorni e quindi la sera io sono di Roma e quindi sceglievo un posto, un albergo dove andare a riposare soprattutto in centro, nel centro di Roma e in zone non molto frequentate. Noi avevamo la scorta quando arrivavamo a Roma veniva la scorta prenderci all'aeroporto e poi ci riportava all'aeroporto quando ripartivamo e quando rimanevamo la scorta ci accompagnava fino all'albergo e d'accordo con Falcone io dicevo alla scorta che potevano andare via perché ormai non saremmo più usciti, ci saremmo fermati in albergo e ci saremmo riposati. Dopo un quarto d'ora, venti minuti che andavamo via la scorta, scendevamo di nuovo e facevamo delle bellissime passeggiate per il centro di Roma in quella calda estate del 1984. Le posso dire una cosa, al di là del discorso che si facevano sulle nostre esigenze, su quello che provavamo, su quello che avevamo, sui nostri problemi, noi finalmente riuscivamo a respirare l'aria della libertà perché a Palermo in pratica non erano più liberi perché a Palermo avevamo la scorta e ci accompagniamo ogni volta che uscivamo, io non avevo la scorta ma ogni volta che uscivo con l'autista e uscivamo con la blindata e non si faceva un giro, una passeggiata, non si riusciva più a fare una passeggiata a piedi per Palermo, il mio itinerario era dalla caserma Carini a 500 metri negli uffici del tribunale Falcone la stessa cosa dal tribunale a casa sua. Non eravamo più persone libere, non eravamo più persone libere di fare una passeggiata, non eravamo più liberi di andare a incontrare degli amici, non eravamo più liberi di incontrarci in un bar. A Roma visto la situazione che c'era, visto che eravamo riusciti a mantenere nascosto il pentimento di Buscetta, si seppe di Buscetta quando venne remessa i mandali di cattura relativa alle sue dichiarazioni, riuscivamo a respirare quell'area della libertà che a Palermo ci mancava. Ecco, questo è l'uomo Falcone, anche lui respirava finalmente un'area della libertà. Sabato 22 ottobre alle 10.30 nell'anno del trentesimo anniversario dalla strage di Capace di Via D'Amelio, il comune di Monsampolo del Tronto intitola la nuova piazza di Stella ai giudici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alla cerimonia parteciperanno anche le scolaresche e tutto questo avverrà anche alla presenza del generale dei Carabinieri, Angelo Pellegrini, adesso collegato con noi, stretto collaboratore dei giudici. Che effetto le fa incontrare in queste occasioni soprattutto i giovani? È una cosa importantissima, guardi, è importantissima tanto che dall'uscita del libro io ho preso l'abitudine di andare nelle varie scuole. Il libro è una scusa, una traccia, è a parlare di questi giudici, a parlare delle vittime della mafia ed è una bellissima cosa che vengono intestati monumenti, che vengono intestati delle lapidi, che vengono intestati delle strade, perché quando i giovani passano, come l'altro giorno per esempio è stato importantissimo che l'università, la Sapienza, abbia intestato l'aula numero uno a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Passando lì si ricordano questi magistrati, perché bisogna ricordarli per quello che hanno fatto, per quello che hanno significato nella nostra Italia e devono ricordarli soprattutto i giovani. Devono avere i giovani lo sprone dal ricordo di questi magistrati, dal sapere che hanno sacrificato la loro vita per fare giustizia, per sconfiggere la mafia, per rendere un'Italia migliore e io dico sempre ai ragazzi dovete ricordarli, perché nessuno muore sulla terra e mi piace citare quello che disse Sant'Agostino nessuno muore sulla terra finché continua a vivere nel cuore di chi resta. Falcone e Borsellino devono continuare a vivere nel cuore di tutte le persone che restano su questa terra. Tutti devono ricordarli, sono passati 30 anni, continuiamo a ricordarli, dobbiamo ricordarli sempre e un'intestazione di una piazza serve anche a far alzare gli occhi, guardare questa targa e dire ma chi erano Falcone e Borsellino? Cosa hanno fatto? Uno stimolo a conoscerli ancora meglio. Certo, ricordarli ma anche onorarli con l'impegno di tutti nella lotta contro le mafie, un fenomeno che purtroppo permane, fenomeno criminoso che permane e che ha subito anche i grossi eh mutamenti come come sappiamo purtroppo se ne parla eh meno generale rispetto agli anni ottanta, agli anni agli anni novanta, ma la mafia c'è. La mafia c'è, la mafia non vuole che se ne parli, evita che se ne parli, evita i delitti, evita che possa verificarsi quello che si è verificato dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino, quel movimento popolare, la reazione di tutta Italia veramente sconvolta da quello che la mafia aveva commesso. Finalmente in Italia si capì cosa era veramente la mafia, la mafia sanguinaria, quella mafia che era disposta a tutto pur di arrivare ai suoi obiettivi. Ora la mafia c'è, non è cambiata nella mentalità, è cambiata nel modo di agire, nel modo di presentarsi. La mafia ha come dico ai ragazzi, ha messo la camicia bianca e una bella cravatta, veste elegantemente, però è sempre quella, non porta più il fucile sulle spalle, però è pronta sempre a colpire chi debba, soprattutto coloro che possano ostacolare i suoi piani. L'interesse della mafia è fare soldi, come aveva l'interesse negli anni Ottanta attraverso il traffico di stuovacenti, ora ha sempre interesse attraverso il traffico di stuovacenti e attraverso l'immissione di denaro, magari in quelle industrie che non riescano a avere un supporto da parte delle banche, la mafia interviene. Però si deve sapere che la mafia è sempre quella, è pronta ad abbandonare, è pronta ad abbandonare quando terminano i suoi interessi. La mafia ha interesse di riciclare i soldi, ha bisogno di riciclare tanto denaro che viene dal traffico di stuovacenti e allora ovviamente ha conquistato anche altre regioni che una volta forse erano immuni da questo fenomeno, anche se allora, specialmente per quanto riguardi la mafia calabrese, già erano, si erano creati delle locali in tutta Italia. E poi è necessario, essenziale, che si porti avanti anche quella iniziativa di Falcone di poter applicare la legge antimafia anche a altre zone del territorio nazionale, del territorio internazionale. La mafia ricicla anche all'estero. La mafia agganci anche in altri paesi dell'estero, anche in altre nazioni. È necessario che non possa sfuggire al sequestro dei beni, provenienza illecita. Chiarissimo. Andando in ingestire in nazioni. Grazie. Non esistono queste leggi. Purtroppo io eh devo chiudere, la ringraziamo davvero per questa sua preziosa testimonianza eh generale eh Pellegrini. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a loro, grazie a loro perché specie per questa attività che fanno. Noi ci fermiamo, una breve pausa e poi ripartiamo subito con una vera mattina. Rimanete qui.